Buonasera, chiedo scusa per la mia voce, che è più brutta del solito, ma è il raffreddore. Parliamo di campionato, Pruzzo è sempre in testa per quanto riguarda la classifica di marcatori con 18 reti. Al secondo posto troviamo questa sera Palanca, autore di una doppietta, che ha scavalcato Graziani, che rimane a quota 11, affiancato da Altobelli. Per quanto riguarda gli episodi da Moviola, oggi ci sono stati 5 calci di rigore, ma noi partiremo ovviamente con le immagini che riguardano la partitissima di Torino, Juventus-Roma, perché ci sono degli episodi da controllare a Moviola e non saranno tutti decifrabili. Carlo Ronche ci porta subito sul campo di Torino a vedere il gol non convalidato alla Roma. Ecco, Conti in azione, il suo lancio in profondità per Pruzzo, il colpo di testa del centravanti per Turone, che mette dentro il suo volto di testa. L'arbitro non convaliderà per fuorigioco. Torniamo un attimo indietro, andiamo a un momento del colpo di testa di Pruzzo. A questo punto dovremmo considerare la posizione di Turone. Come vedete è indecifrabile anche perché la prospettiva non ci consente una valutazione esatta. Possiamo scendere un attimo, tornare un attimo indietro, e vedere che il giocatore più indietro del Juventus, quello che poi contrasterà Pruzzo nel colpo di testa, Prandelli, ci sembra al di qua del dischetto di rigore, cioè tra il dischetto di rigore e il centrocampo per intenderci. Andiamo pure avanti. Al momento del colpo di testa, Pruzzo, come vedete, Turone, ha fatto dei passi in avanti. Potrebbe a questo punto essere in linea anche col dischetto di rigore, però è una valutazione molto molto difficile, anzi direi impossibile da stabilire guardandolo anche in Moviola. L'abitore comunque non ha convalidato su segnalazione del guardaline. È stata una partita durissima.